Mi sa che siamo ritornati al punto di partenza ragazzi, quando Raiden aveva una tuta subacquea. Ma chi è quella donna che sta scendendo l'ascensore? Quella ho la pelle nera che è a prova di proiettile ed è armato nel suo potente railgun. Non mi dite che è Fortune. Il nostro Raiden deve fare molta attenzione. Aia, questa non ci voleva ragazzi. Ora ci darà la caccia, Fortune. No, ti sbagli, Fortune. Io non ho ucciso tuo padre. È stato Revolver Ocelot. Accidenti, che potenza. Ma quella è una scarica elettrica che c'è nel Railgun. È un'arma potentissima, il Railgun. No, ti sbagli, Fortune. Sono Gabriosta. Perché c'è il responsabile che ti ha ucciso tuo padre, Scott Dolph? E perché ti devo uccidere? Ah, ti chiami Fortune? No, non ti ucciderò.